Ferre, hai il coraggio di sfidarmi quest'oggi? Certo, ovviamente, Steph! Ok, allora ti sfido a chi fa la macchina più figa Ci sto! Però non è così semplice Dovremo comprare la stessa auto E dovremo modificarla da Bennis Dove si possono fare delle modifiche incredibili E rendere le macchine una cosa totalmente stratosferica Quindi vedremo chi vincerà E ovviamente botteranno i consolini E ragazzi, come va? Io sono Ferre e Niki E sono Steph, che si giochiamo a GTA V Ed eccoci qua in un nuovissimo episodio di GTA Quest'oggi io e Steph ci sfideremo praticamente a Pimp My Ride Perché in pratica è quello, Steph Detto proprio chi era e tondo è quello Assolutamente sì Allora, quali sono le regole? Prima di tutto, dobbiamo comprare lo stesso identico veicolo E certo Seconda regola, abbiamo lo stesso identico budget Terza regola, dovremo fare anche una presentazione dell'auto Ok, dato che abbiamo diverse cose con cui interagire con queste auto Perché danno la possibilità di fare cose tipo di far muovere l'auto Tutte quelle tamarate lì Non solo dovrete valutare l'estetica dell'auto Ma anche come viene presentata e tutte le cose fighe che ci faremo sopra Quindi sarà una roba un po' strana Una sorta di spettacolo dopo che ci facciamo l'auto Per iniziare però dobbiamo decidere appunto quale veicolo comprare Io le sto già controllando Io ne vorrei una brutta, Steph Proprio come nelle trasmissioni che ti arriva la macchina più brutta in assoluto E tu la devi rendere una figata pazzesca Allora, io faccio vedere i consolini quale vorrei Vediamo quale mi proponi tu Io voglio la Declasse Voodoo Declasse? L'ultima in ordine di prezzo Oh, eh, esce interessante È proprio brutta È costa anche 75.500 Eh, però è proprio brutta L'altra che io avevo pensato era la Vepid Slamban Un po' in alto, costa 50.000 È una sorta di furgoncina Secondo me si possono fare cose fighe Eh, ce l'ho vista quella, però boh Io volevo Andiamo di quella meno costosa in assoluto Poi magari in un altro episodio ne scegliamo un altro un po' più carino Ok, guardate, mi fanno già vedere cosa potrebbe diventare Giusto per farvi capire cosa tutto possiamo fare Però dovremmo giocarcela bene Quindi per adesso compriamola come colore di partenza Io me la prendo nera per stare sul classico Io l'ho presa fucsia E adesso vediamo un po' Fucsia, Ferre Proprio sopria Vabbè, ascolta, le macchine comunque devono essere fatte belle sgargianti, Steph Perché se tu puoi mi fai una macchina modificata semplice Ferre, non iniziare con i tuoi discorsi infiniti, per favore Adesso l'auto arriva Andiamo a prenderla nel garage Andiamo da Benny E inizia la sfida Se volete un episodio dove vi mostriamo anche i nostri garage Perfezionandoli e ultimandoli Ditecelo nei commenti Perché è una cosa che stavamo già pensando di fare Per adesso cerco di farvi vedere poco e nulla Così nel caso non vi spoilerò niente Dimmi Ferre È un catorcio totale Davvero? Mi vergogno di andare in giro con quest'auto Steph, io sono già qui da un sacco di ore Cioè, si è fatta l'alba Dove sei? Dove sei? Sta arrivando, sta arrivando Che non gira Non frena Non accelera Di auto a poco Ha soltanto le ruote e il volante Secondo me Io direi Dove sei cercando di entrare? Qua Nell'altro cancello, Steph Manco il cancello L'altro Questo Io mi vergogno di te Io non ho simboli Mi stai facendo vergognare Non c'ha il segno È certo che non ce l'ha Ma devi entrare dal garage Dove vuoi entrare? Eccomi Buongiorno amico mio Allora, ci tenevo a dire che per questo episodio Cerchiamo di fare tipo Io farò la macchina ideale per me E tu fare la macchina ideale Perché magari In altri episodi possiamo fare anche altri temi Esatto Quindi non lo so Quindi se vi piace Like, commenti, sondaggio Tutte le cose per farci sapere Allora No amico mio Ti prego non parlare Dai ti scongioro Che è la prima volta che vengo Ma dai su Adesso mi tocca tagliare tutto E tu mi stai dicendo Che è la prima volta che vieni da Benny? Per me no, Steph Ovviamente Io ho già una macchina da Benny Sono una cliente fidata Tu no Calcolatrice in mano, Fere Perché dobbiamo calcolare Tutte le spese che faremo E si inizia a modificare Allora devi andare Non sbagliare Perché lì ci sono le modifiche base Poi devi andare su modifica Vai Ok E lì c'è la macchina custom Quindi solo per fare quello Costa un sacco di soldi 420.000 3.000 dollari Che io comunque È diventata già bella Mi lascio Ha fatto i salti Sì ho visto Allora quindi 420 420.000 Più Io lo segno Ok Allora armatura Beh l'armatura la mettiamo giusto Ma non conta Dai non la mettiamo Perché? Perché l'armatura non è a livello estetico Allora facciamo insieme Ok mi piace Sì 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 L'armatura non è a livello estetico Quindi teoricamente non conta Però c'è anche da dire È che a un cliente Non puoi dare un'auto Che si rompe subito Allora prendiamo più 12.000 Entrambi così È un pareggio E via Ok Ok quindi Freni 12.000 Anche i freni mi sa che non si vede niente A livello estetico Eh ovviamente No aspetta che Che vai a vederli Si vedeva qualcosa Vabbè 5.400 Qui siamo uguali Paraurti Allora ho la possibilità di questo Di questo E di questo Ma scusa Che ne hai? Tre Ah pensavo fossero molti di più Allora Mi piace questa cosa Però mi piace così Ok Ok io mi prendo questo Ovviamente non te lo faccio vedere Più 1.500 Ovviamente Più Telaio Oh 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 Qua si inizia Qua si inizia Eh sì Allora colore principale Cromati E con le piastre da marre Belle le piastre Ok 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 Io continuo Ad aggiungere Soldi su soldi Ok Poi Antenne Ah Però è una macchina Un po' d'epoca Gliela metto Aspetta Però sono molto brutta Io questa Prendo questa Sì Ok Finiture Perché sto segnando i prezzi Si inizia Fere Eh lo so Si inizia Ora si inizia la parte difficile Devo arredare gli interni Dell'auto E non so che cosa scegliere Fere sta totalmente Impazzendo Perché Ci sono 2000 cose Tra cui scegliere Sta impazzendo E anche tu sei impazzendo E anche io sei impazzendo Non riesco più a dire Perché faccio ascoltare i clacson Non riesco a ascoltare Metti il cursore sopra E parte il rumore No Allora Parte Stef Uh Che bello Io sono indeciso Se farla tamarra Non tamarra Non lo so Non lo so come farla Non ho Non avevo un piano in mente Fere tu come ti senti? No vabbè Io mi sento abbastanza a mio agio Con queste cose Stef Cioè devo dire che adesso A parte che non riesco a sentire i clacson E mi sto un po' infastidendo Però per il resto Lo sai che a me le cose tamarra Sono naturali Stef Io non ho bisogno Allora ti metto già il vincolo Sul clacson Il mio non lo puoi prendere Mi dici un bel clacson Il mio è Liberty City E non puoi prenderlo Qual è Liberty City? È troppo bello Perché non me li fai sentire? Mi sto arrabbiando Mi sto arrabbiando Mi sto arrabbiando Allora cosa mi metto? Oh mamma mia Ma quante sono le tante? E questa è strabella Pupazzo cupomiettitore Bellissima No Non l'ho messa Ecco Ti è bastato il mio no Ti è bastato il mio no Lo sapevo tanto Ti conosco bene Ti conosco benissimo Cosa mi metto? È il momento della presentazione Siete pronti per vedere Quella di fare? 3 2 1 Tadà Bellissima Steph Io scommetto già Che adesso sei invidiosissimo E ti vuoi ritirare dalla sfida Vero? Eh sì Vero che ti vuoi ritirare Steph? Non la guiderei neanche se fosse Ma dove li hai trovati i cerchioni con i dollari? Nella sezione cerchioni Preferire Nikki Mi sembra logico Allora Visto che li hai notati Iniziamo ad appresentare le ruote Ho messo innanzitutto Un colore rosso Abbinato al colore dell'auto Nei pneumatici Poi ho preso i cerchioni con i dollari Che ovviamente ho dipinto dorati e verdi Perché mi sembra giusto rispettare Il colore verde del dollaro E sono fantastici E le ho messe anche antiproiettile Così nel caso che tu diventassi gelosissimo Non me le puoi far esplodere Va bene Ebbè certo Ottima cosa Questo è molto importante Poi Poi passiamo al colore dell'auto Io ho scelto un rosso Se non ricordo male Metallizzato Ok Con un perlescente viola Così da darle un pochettino Vedi alla luce Dà un po' effetto Tipo bordeaux Tende a stare sul bordo Ovviamente Quindi giusto per specificarti Che io ho fatto allancare le cose bene Con i colori perlescente Va bene Va bene Non so neanche cosa vuol dire Perlescente Ma neanche tu cosa vuol dire Che è da più luminosità All'auto Ok Ovviamente lo so Poi la mia livrea Che è questa qui Questa che vedi La vediamo tutti Grazie Molto molto bella Poi queste righe Non mi ricordo come si chiamavano Di decorazione Ma le ho scelte all'inizio Tutte colorate Per far sì che si abbinassero A qualsiasi colore Avessi scelto Ok Questi così qui sotto Questi sono gli elettori Va bene Li vedo Ok E poi come ti faccio vedere Tipo il cofano Credo che li devi aprire dopo Quindi ci pensiamo dopo Allora vado a vedere l'interno E lo valuto io Così salgo L'interno è esagerato Allora Ho davvero esagerato Granata come freno Volante con le catene Sì ti piace Mietitore di morte Tutto La granata e il mietitore Ovviamente sono sempre Minacce per i tuoi confronti Anche dietro Hai visto ti piace la scritta San Andreas Molto 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 Ci stava bene Non lo so Ok ok Quell'interno l'ho fatto Di lusso Mi piaceva questa fantasia Un po' Un po' abbastanza Anzi troppo Tamarra Però ci sta L'ho fatto sempre sul rosa Un po' di fucsia A me piace Ti dirò Appena ti ho fatto vedere i neon Ah Ho messo tutti i neon Ok Aspetta da spenta Non si vede Accendi 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 Ho messo anche il fumo Aspetta il fumo Eccolo qua Lo vedi Viola Lo vedo Ok Tutto abbinato Allora Iniziamo a far vedere Anche la mia Io ancora non l'ho vista Altrimenti Fere Qua non la finisce più Ah ma ho messo anche un'altra cosa Stef Eh ma fai vedere dopo Nella targa qui dietro Ho messo le borchie Tu le hai messe Le borchie nella targa Non le ho messe Ma l'ho modificata anche io Buongiorno Fere Ok Oh per fortuna Non abbiamo scelto la stessa Librea Perché O è la stessa Come fai a fare queste cose No lo voglio fare anch'io Come fai Dimmi tasti Dimmi tasti Guardami Stef La mia presentazione è stata rovinata Dal fatto che ho cliccato troppe volte Shift e si è attivata una cosa di Windows Dannazione Tasti rapidi Non ho parole In ogni caso Vuoi fare una sfida di clacson? No io voglio fare una sfida di ballo con le auto Scusami Con i clacson Dopo ci sfidiamo Prima fammi vedere la tua auto Allora Finistrini completamente neri Per non vedermi dentro Perché sono troppo bello Neon Arancione Come puoi vedere Abbinato alla livrea Esatto Che la livrea è una sorta di primordiale Molto interessante Cerchioni abbastanza sobri Davanti Moltissimi Molto figo Tanti strafighi Perché non hai scelto quelli Perché non li trovavo Io mi presento con i cerchioni Con i dollari E tu con questi banali Non li trovavo Ferri Non so che dirti Hai un po' toffato Stefani Dopodichè Vieni dentro E vai in prima persona Guarda se ti piace Pelle di cocodrillo Ferri Pelle di cocodrillo Cocodrillo Con il microfono da prendere così Guarda il volante Che è tutto cromato Particolare in argento Bellissimo Secondo me ha fatto un bel lavoro Però Stef Stef Arriva la metro Prima mi ha preso la fiancata Fai attenzione Mi ha distrutto metà auto Non per dire Ci tornava a dire Tu hai scelto uno stile molto classico Cioè qui dovevamo fare un'auto Comunque abbastanza tamale No Era un'auto In base ai propri gusti Guarda come sono vestito io Guarda come sei vestita tu Certo che devo tenere Una roba abbastanza elegante Allora diciamo che la tua Nonostante le modifiche di Benny Rimane comunque un'auto Abbastanza elegante Perché secondo me se vai in un locale così Non è che ti guardano male Io se vado in un locale Conciata così Ti arrestano Non mi fanno neanche entrare Soprattutto se vedono gli interni dell'auto Capito Allora Mi scusi ma è pronto il mio spettacolo Perché Ma lo voglio fare anche io Perché non mi hai detto che esistono sti tasti Io non lo so Allora tocca a me Non ho mai avuto un'auto così È il mio momento Vai Ok Prima di tutto Musica Ti aspetto Ok Mi piace Sì Il fumo Di che colore è il fumo? Arancione Ma sembra Perché è notte Fede Non voglio dire di che cosa sembra quel colore Però vabbè Senti la musica Ok Dopodiché Continua la musica Ok E tu che fai? Devo premere un sacco di tasti Ok Vai Steph Che bello Sta a ballare meglio un'auto di te Questo è ridicolo Steph È fantastico Eh vabbè Non esagerai che ti capovolgi No di nuovo Vabbè No Basta Non posso ballare Non posso ballare Che altrimenti qua Mi si interrompe tutto Allora Però adesso Io voglio vedere anche all'interno Cioè io ho fatto dei cofani Sia il motore Che il cofano di dietro Ci ho messo le casse Cioè dove sono tutte queste cose Non so Non lo so No Steph Dobbiamo trovare i tasti Cioè è una vergogna Io ho scelto le cose più belle in assoluto Non so il tasto Però penso di averlo trovato Dimmi Allora Aspetta 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 Vediamo se fa Vediamo se fa Ok Aspetta Ho già capito Vado prima di te Senza che tu me lo dica Veicoli Aspetta 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 Oh Sì bello Non l'ho capito Aspetta Aspetta Oh Ok Ok Ci sono anch'io Li ho trovati Mamma mia E adesso possiamo un attimino Anche visualizzare il resto della nostra auto Che mi sembra corretto Allora fammi vedere chi hai messo tu Guarda qua Guarda che spettacolo Ah Mi è caduto lo sportello adesso Ok Ma era già caduto Cosa è strana Allora da dove iniziamo Da qui Da qui Guarda qua Questo qua è il motore Con tutte le cose strafighe Bellissimo Mi sembra abbiamo fatto uguale Rispetto al tuo Sì vedi No è uguale Guarda è lo stesso Cambia solo il colore Il mio è rosso e il tuo è nero Però è uguale L'abbiamo scelto uguale Ok Invece dietro stereo Super figo Era il più figo che c'era E anche io ho preso quello Ok siamo uguali In ogni caso Con il sondaggio Votate Fateci sapere Quale preferite Tra le due Se vi piace il format E se lo volete rivedere Nel caso lo faremo a tema Quindi cosa ne so La macchina per un calciatore La macchina per uno studente E così via Cercando di farle In modi simpatici E divertenti Quindi speriamo che il video Vi sia piaciuto Ci fermiamo così Spero che se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare L'inno di iscrivervi Per rapertervi gli altri pis Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao